Se è vero e lo è che ogni Porsche ha una sua precisa ragione di esistere, non deve stupire il fatto che la gamma della Macan si sia allargata verso il basso con la versione monomotore. In fin dei conti ci sono sempre sotto il piede 340 CV e poi la trazione è posteriore e su una SUV di questo tipo la cosa riveste una certa importanza. Allora abitabilità posteriore della Macan, beh devo dire che il sedile è come regolato per come guido io che sono alto 1,80, qui ho tanto spazio, ho spazio anche in altezza anche se il tetto panoramico mi porta via un pochettino di centimetri e poi cosa dirvi ancora, la larghezza non la posso valutare, devo aspettare le misure del centro prove, però posso già dirvi che il tunnel centrale è basso e non dovrebbe dar tanto fastidio ai piedi di un eventuale terzo passeggero e poi qui ci sono le bocchette e mi posso anche gestire il clima. Diamo uno sguardo anche al bagagliaio della Macan, apertura servo assistita, abbiamo 546 litri dichiarati, poi quando la macchina arriverà a Vairano saremo più precisi, per il momento vi posso dire che soglia sia abbastanza alta ma molto curata, occhiello incassato e poi una moquette abbastanza di qualità, anzi devo dire di qualità e tutta una serie di accessori per organizzare e trattenere il carico, per esempio rettine qui, qui ci sono degli elastici e qui il comando molto comodo per abbattere il sedile posteriore. La plancia della Macan è molto Porsche, molto simile a quella degli altri modelli, qui a differenza per esempio della Panamera abbiamo le bocchette che si regolano manualmente e questo secondo noi è un plus, ma la scena è dominata dai tre schermi, qui c'è anche l'opzionale, quello davanti al passeggero anteriore, strumentazione con i tre strumenti virtuali, comunque con lo schermo che entra perfettamente nel volante e comunque un'ergonomia curata perché non si sono dimenticati i progettisti di mettere i tasti fisici sia sul volante, sia questo che è quello per cambiare le modalità di guida e poi il clima che si può controllare facilmente da questa plancetta e poi anche tanti portaoggetti, quindi li abbiamo per esempio qui dove sono due portabicchieri, qui ce n'è uno molto grande e poi dietro questo sportello la piattaforma di ricarica wireless. La Macan che sto guidando quindi ha un motore sistemato sull'asse posteriore e una batteria da 95 kWh utilizzabili che poi è la stessa delle altre Macan e che le permette di percorrere con una carica, secondo la Porsche, oltre 640 km in media. Sotto la pelle della Macan c'è la piattaforma PPE che ha l'architettura a 800 volt ed è la stessa sostanzialmente che si ritrova per esempio sotto le forme dell'Audi Q6. Già che ci siamo vi dico qualcosa rispetto alla ricarica, in corrente alternata l'homeboard charger è da 11 kW, quindi non un risultato stratosferico se vogliamo perché ci sono auto elettriche che permettono di avere anche in opzione il caricatore interno da 22 che abbrevia di molto i tempi alle colonnine in corrente alternata, mentre invece l'architettura a 800 volt torna molto utile quando ci si abbevera alle colonnine HPC. Quindi qui la Macan, anche la base, può arrivare fino a 270 kW, tutto questo naturalmente se il processo di ricarica si completa nel modo giusto. Le modalità di guida sono quattro, si parte dalla normal, poi si può scegliere anche l'off-road per percorsi in fuoristrada leggero, niente di più. Dopodiché si passa alla Sport e perfino alla Sport Plus e in questo caso appunto le sospensioni con molle priomatiche si settano per far muovere il meno possibile la vettura. Devo dire che la risposta delle sospensioni in normal è ovattata, piuttosto morbida e non ci sono assolutamente scorsoni o sobbalzi anche dove l'asfalto è un po' più rovinato. Il capitolo Comfort vede anche un'insonorizzazione che devo dire mi sembra curata, non avverto frusci strani o un rumore eccessivo di rotolamento dei priomatici, quindi mi aspetto che anche gli strumenti del centro prove certifichino questa mia sensazione quando la macchina varcherà i cancelli di Vairagno. In ogni caso mi sembra una macchina comoda da utilizzare nel quotidiano. Ma quello che voglio davvero capire è se la macchina base è in grado di rivaleggiare con le sorelle molto più potenti come ad esempio la 4S o la Turbo. E beh, dalle prime impressioni la risposta devo dire che sì, perché i 340 cavalli del motore montato al posteriore comunque se la cavano molto bene anche nei saliscendi. Certo non vi strapperanno gli occhi dalle orbite in accelerazione, però dicono la loro nel quotidiano e non soltanto. E poi c'è un telaio che è veramente riuscito, nel senso che la piattaforma PPE anche in questo caso, su questa Macan base che sto guidando senza elettrotreno sterzante, ma con le molle pneumatiche, devo dire che si inserisce con una precisione e una rapidità notevole in curva per essere una SUV elettrica da circa 2200 kg e dissimula veramente bene il suo peso. Tutto è amalgamato molto bene dallo sterzo, che è il classico Porsche, rende sempre bene l'idea di cosa stanno facendo le ruote anteriori, appunto al controllo del rollio e del beccheggio, e devo dire che la sensazione, la mancanza del motore anteriore, fra le curve, fra un misto stretto come quello in cui sto guidando adesso, può essere quasi considerato un vantaggio, dove serve magari più telaio che motore, ci si possono anche togliere delle belle soddisfazioni. Non posso ancora essere ovviamente preciso dal punto di vista dell'autonomia e dei consumi, però vi posso dire che in circa due ore di guida e 140 km più o meno segnati sul computer di bordo, il consumo medio segnato appunto al computer di bordo è di circa 4,5 km con un kilowattora, con uno stile di guida che ovviamente non è paragonabile a quello diciamo di tutti i giorni, perché ho esagerato un po' con i piedi dell'acceleratore. Detto questo ho circa un 70-75% di capacità della batteria e la macchina segna un'autonomia residua pari a 324 km. A qualcuno potrebbe dar fastidio la mancanza e la possibilità di regolarsi il regen su più livelli, infatti ci sarebbero stati bene due dei paddle qui al volante per appunto poterlo regolare, il regen e il rilascio. Però qui c'è una modalità B che si può settare richiamandola con un tasto qui sul volante, però ecco è sempre piuttosto blanda. E allora arriviamo al capitolo prezzi, la macchina base parte da 84.626 euro e ovviamente questa cifra può salire di tantissimo se ci si lascia prendere la mano dal lungo listino degli optional, però secondo me potrebbe essere una proposta molto valida per chi si accontenta e soprattutto perché ha una potenza adeguata, 340 cavalli, è vero non avete la trazione integrale, ma se non andate spesso in zone dove nevica non ne avete sostanzialmente bisogno. Si guida molto bene tra le curve, è agile e il giusto per essere una macchina così pesante, 2200 kg e poi una batteria grande, da 95 kWh netti e ciò significa che potete percorrere, vabbè secondo il dichiarato poi vedremo, ma 641 km di autonomia media. Insomma sono dati che non la fanno assolutamente disprezzare rispetto alle sorelle ben più potenti e certo bisogna farsi andare bene un allestimento che comunque ha bisogno di qualche piccola integrazione perciò è lì il segreto non farsi prendere troppo la mano, ma anche appunto scegliendo la Macan Electric 2 ruote motrici, quindi la base, assolutamente non avrete, non vi sentirete inferiori, non avrete alcun complesso di inferiorità, secondo me, secondo noi, verso le Macan più potenti e cavallate. E voi cosa ne pensate? Fatemelo sapere qui sotto nei commenti.